Quali sono le attuali forme di collaborazione tra mondo della difesa, università, enti, aziende e ingegneri per la sicurezza informatica? Su questo specifico tema abbiamo realizzato una serie di sinergie col mondo accademico, col mondo industriale, col mondo istituzionale, noi del mondo militare attraverso la stipula di convenzioni che ci consentono di formare sia presso i nostri istituti che presso gli atenei del personale preposto alla specifica branca cibernete. Quindi esiste veramente una forma di comunione di intenti da questi vari mondi istituzionali. E com'è possibile migliorare questa sinergia? Guardi, io sono Reduce proprio ieri, ho chiuso l'esercitazione Cyber Coalition 2019, che è un'esercitazione che fondamentalmente è fatta da tecnici dal punto di vista del materiale cibernetico. Però in passato l'avevamo anche aperto a personaggi delle pubbliche amministrazioni centrali e ad altre istituzioni. Ebbene, la ginnastica, l'allenamento, l'addestramento continuo su queste tematiche effettivamente potrà migliorare e rendere più efficiente la risposta su questo tipo di minacce.